Amici, amici, amici e amiche, amiche, amiche di Facebook avete ritrovato un'altra richiesta di video dediche dal mio sito ricordiamo che da ieri è online il mio nuovo sito che è www.giuseppesena.eu e quindi io vi invito ad andarlo a videonarlo e lasciare anche qualche messaggio e adesso andiamo ad accontentare l'amico Gianluca Canduro che ci ha richiesto la canzone di Enrico Ruggeri il cui sito è il mistero che è dedicato al suo amico Domenico Ascione va in giro e partire con la bassa musicale con la bassa musicale con la bassa musicale di Enrico Ruggeri Anche il tuo numero non si può non dormire e non sappiamo più decidere se vi faccio dire che fate fate il cuore anche per lo stupore e non capire l'olizontale che forro verrà E che catture tutto ci moltiplica E non lo so che nell'anno si va a telefonare Quando si chiede, quando si dà Quando ti ama davvero Ti stego Ti abbiamo già rubato qui, abbiamo già pagato Allora sappiamo di che è quello che stai che sei stato Ma non la facciamo, nemmeno la vogliamo E meno il tempo di capire che siamo già Questa cancro che ci fa, vive che è favore E sta cosendo in esporto da te Quando si chiede, quando si dà Quando ti ama davvero Ti stego 3 pincero Dimelo, dimelo 3 pincero 3 pincero 3 pincero 3 pincero 3 pincero 3 pincero 4 pincero 5 pincero 5 pincero 5 pincero 5 pincero 6 pincero 6 pincero 6 pincero 6 pincero 6 pincero 6 pincero 8 pincero 8 pincero 8 pincero Cascina fuori dalla macchina, profe che ci fa stare sotto un bottone Cosa ci vede, cosa ci fa, quando si ama davvero Mistero Quando si chiede, quando si dà, quando si ama davvero Mistero 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 Andatelo a visitare e lasciate anche qualche bel messaggio, ok? Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao.